. Da Kim Kardashian a Bella Hadid, addio pantalone, ecco il nuovo trend. . Si sa, nessuno meglio di Kim Kardashian o Bella Hadid può permettersi di dettare legge infatto di look e di print, ma a guardare le foto delle ultime uscite delle due celebrities ma non sono le uniche sembra che abbiano dimenticato i pantaloni a casa. . Mini abiti e maxi felpe per mostrare le gambe. È il caso di dirlo, sotto il vestito niente. L'ultima moda sembra proprio quella di vestirsi solo nella parte superiore del corpo e lasciare scoperte le gambe. . Una delle prime è stata proprio Kim Kardashian, che già un po' di tempo fa indossò una maxi felpa probabilmente del marito Camille West come se fosse un vestito, con le gambe fasciate solo da un paio di stivali Balenciaga. . La prorompente Kim è stata imitata e seguita a ruota da Bella Hadid che, nella fredda Parigi, in occasione della Fashion Week, non ha avuto nessun problema nel lasciare a casa i pantaloni e indossare giacche o maglie appena un po' più lunghe del normale come fossero dei mini abiti. . Già Rihanna, in passato, aveva dimostrato di essere una grande fan del blazer dress, trasformando delle giacche lunghe e rigorosamente oversize in abitini sexy e femminili. . Maxi pulle e sneakers anche per tendal Jenner, mentre sempre Rihanna ha dimostrato che si può essere molto femminili anche indossando una giacca di pigiama di seta Prada impreziosita da una cintura in vita e ai piedi un paio di pantofole con le piume. . . .